Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Prima e seconda commissione dell'Assemblea Legislativa a Norcia hanno incontrato i sindaci della Valnerina per fare il punto sulla gestione dell'emergenza e sulla ricostruzione. David Mariotti Bianchi. La prima e la seconda commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presiedute da Andrea Smacchi e De Rosbrega, si sono riunite a Norcia per fare il punto della situazione post-sisma insieme ai sindaci delle aree colpite dal terremoto del 24 agosto. Dall'incontro è emerso come sia terminata la prima fase dell'emergenza post-sisma con la messa in sicurezza di persone e strutture, mentre ora inizia la seconda fase, quella che riguarda la sistemazione provvisoria della popolazione e le strutture strategiche produttive. Un passaggio da avviare in maniera veloce per l'avvicinarsi della stagione invernale. Inoltre si dovrà iniziare ad impostare la ricostruzione da realizzare con il contributo coordinato di tutti i comuni colpiti che dovranno fornire alle due commissioni dell'Assemblea un documento unitario che supporti l'attività legislativa. Il presidente della seconda commissione, Rosbrega, ha sottolineato l'importanza di questa riunione a Norcia. In seconda commissione noi abbiamo in pieno dibattito le leggi sul turismo, sul commercio, sull'urbanistica. Cercando di assumerci grandi responsabilità e sostegno alle esigenze vere di questo territorio, cerchiamo di confrontarci con i sindaci interessati per capire quelle che possono essere le iniziative vere, concrete e anche abbastanza veloci per poter aiutare e fare fronte a questa emergenza, che è un'emergenza di rilancio di questo territorio, di messa in sicurezza di questo territorio e di sostegno all'economia di questo territorio. Dobbiamo assumerci la responsabilità con le risorse che abbiamo, non dobbiamo prenderci impegni che non possiamo prenderci noi e che insieme al governo dobbiamo lavorare affinché alcuni temi e alcune risorse le metta il governo centrale e quello che noi possiamo fare come regione non dobbiamo sottrarci ma ci dobbiamo assumere, ribadisco, le responsabilità di nostra competenza e cercare di essere concreti senza fare promesse che non potremo mantenere, senza fare banali passerelle che credo che questa popolazione, questo territorio, non ne ha assolutamente bisogno. Andrea Smacchi, presidente della prima commissione, ha lanciato la proposta dell'Art Bonus anche per i beni culturali privati. È importante che sia qui l'assemblea legislativa, oltre che il governo della nostra regione ci sono consiglieri regionali che in qualche modo sono pronti e disponibili a fare di tutto per stare vicino a queste popolazioni e a presentare proposte concrete per venire incontro sia ai cittadini, sia alle aziende e alle imprese che in questo momento sono in difficoltà ma hanno intenzione di ripartire in tempi veloci. Una delle proposte concrete che presenteremo è la possibilità di estendere il cosiddetto Art Bonus, cioè la possibilità della detrazione fiscale per piccole o medie aziende, ai beni privati, fra cui quelli ecclesiastici, sempre nell'ambito culturale. In questo momento è possibile soltanto per i beni pubblici, abbiamo già un via di massima da parte del governo centrale e credo che in via sperimentale cominceremo dai comuni interessati dal sisma del 24 agosto. Quindi una possibilità in più è quella di avere la detrazione fiscale per chi vorrà donare delle risorse per risistemare gli oltre 13.000 beni culturali privati che sono stati catalogati come lesionati. Proposte concrete anche dal Vice Presidente della Seconda Commissione, Emanuele Fiorini. Come siamo stati nei vari giorni antecedenti sul territorio, abbiamo parlato con diverse persone, abbiamo ascoltato soprattutto le persone, i loro malessere, le loro preoccupazioni. Oggi li riportiamo in questa sede. È stato un lavoro importante perché oggi sappiamo come anche interagire e come andare incontro alle loro esigenze. Soprattutto dobbiamo con i tempi celeri ricostruire e dare la possibilità di avere ognuno una casetta di legno, ma soprattutto anche ai produttori e aggricoltori che vivono in una situazione abbastanza complicata, visto che comunque è già iniziato anche lo sciagallaggio. Poi abbiamo preparato un documento con otto proposte che porteremo all'esamina della Commissione. Non è giusto prevedere solo 200 euro a componenti, poi per un massimo di tre componenti, quando a un presunto profugo si riconoscono 1.138 euro. È un razzismo al contrario che va contro i terremotati, ma soprattutto contro i cittadini umbri, contro gli italiani. L'importanza dell'ascolto del territorio è stata sottolineata dalla Vice Presidente della Prima Commissione, Maria Grazia Carbonari. Innanzitutto è stato positivo questo incontro sul territorio. Noi lo abbiamo già fatto come gruppo consigliare qualche giorno fa. È stato positivo però sentire le esigenze di tutti i sindaci, che sono appunto le autorità che in primo luogo sono vicino all'esigenza dei cittadini. E ritengo che al di là di tutto i cittadini di queste zone colpite in modo così forte e negli anni dal sisma debbano essere posti al centro dell'attenzione. Quindi per noi è importante ascoltare le esigenze dei cittadini delle zone terremotate e anche delle attività produttive e che le loro esigenze vengono poste al primo posto rispetto a quelle che invece sono le indicazioni nazionali o quello che a noi magari farebbe più comodo, farebbe piacere. Quindi in primo luogo ricordiamoci che bisogna rispettare queste comunità ed evitare lo spopolamento di questi territori. Dai sindaci dei comuni colpiti dal terremoto a partire da Nicola Alemanno di Norcia è emersa la necessità di fare in fretta e di dare leggi che possano aiutare il territorio a ripartire il prima possibile. Dopo alcuni giorni finalmente possiamo dire che le condizioni di tutti i cittadini residenti a Norcia sono oggi condizioni di sicurezza e quindi possiamo considerare in qualche modo conclusa la prima fase dell'emergenza. Ci stiamo in questo momento attrezzando per studiare, approntare e mettere in atto tutte le azioni che saranno necessarie per gestire la fase dalla gestione dei campi di emergenza fino all'installazione dei moduli abitativi provvisori. In questo momento l'asse comuni, regione, commissario per la ricostruzione direi che è un asse monolitico, stiamo lavorando insieme non ci sono richieste da fare ma problemi da affrontare e risolvere insieme. Tra le problematiche principali quella della viabilità da ripensare così da evitare l'isolamento di queste aree durante le emergenze particolarmente critica la situazione della strada che collega Norcia a Castelluccio ancora inagibile e che crea molti problemi anche per gli aiuti. Dalla riunione è emerso come le ricostruzioni del 79 e del 97 abbiano sostanzialmente retto, le case non sono crollate ma dagli interventi è apparsa chiara la necessità di impostare una ricostruzione integrata che non faccia differenza tra residenti e non residenti. Questo perché si è visto come il problema maggiore siano stati proprio quegli immobili spesso secondi abitazioni che non sono state adeguate nelle ultime ricostruzioni. Un grande ringraziamento generale è andato alla protezione civile che ha gestito la fase dell'emergenza in modo efficace ed efficiente. Il direttore regionale Alfiero Moretti ha fatto il punto. La prima fase di assistenza della popolazione in tende e strutture pubbliche è ormai risolta. In tutta la zona assistiamo più di 1200 persone. Siamo impegnati nelle prossime ore a trasformare questa sistemazione del tutto precaria delle tende in una soluzione ponte in attesa che si definiscono quelle soluzioni provvisorie più definitive il che vuol dire contributo per l'autonoma sistemazione o in alternativa anche soluzioni alberghiere e così via. Alla fine dei lavori i consiglieri hanno effettuato un sopralluogo nella frazione di San Pellegrino di Norcia tra le più colpite dal terremoto. Prima e seconda commissione torneranno di nuovo a riunirsi a Norcia per incontrare i rappresentanti delle categorie economiche delle aree terremotate. Presenza di amianto nei siti del territorio regionale. In seconda commissione audizione di ARPA, INAIL, USL, sindaci e tecnici regionali. Vediamo. Le difficoltà di affrontare la questione amianto in Umbria riguardano un problema che si articola in bonifica dei siti produttivi attivi e dismessi, tutela dei lavoratori esposti e dissuazione dall'abbandono di materiale nel territorio per evitare i costi dello smaltimento autorizzato. Lo hanno spiegato i rappresentanti di ARPA, INAIL, USL, insieme al sindaco di Narni, ai tecnici di Terni e Foligno e degli assessorati regionali di sanità e ambiente, intervenendo all'audizione sulla presenza di amianto nei siti del territorio regionale. Dall'incontro convocato dall'organismo presieduto da Erosbrega è emerso che le aree risiedono in tre siti con più alta concentrazione di amianto, la Tissen Group, la SGL Carbon e le officine grandi riparazioni. Di grande importanza risulterebbe il rilevamento della presenza di amianto ed Eternit all'interno e sulle coperture degli edifici. L'ultimo aggiornamento da parte dell'Agenzia regionale per l'ambiente sui siti pubblici e privati risale al 2007 e sarebbe necessaria una nuova mappatura della situazione. Difficoltoso risulterebbe anche rilevare l'incidenza dell'esposizione all'amianto sulla salute di cittadini e lavoratori, dato che la latenza delle malattie può arrivare anche ad alcuni decenni, rendendo più complesso analizzare la connessione tra condizioni di lavoro o di vita e patologia. Audizione in terza commissione sul disegno di legge concernente le norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini. Marco Paganini Si è svolta a Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, l'audizione convocata dalla terza commissione in merito al disegno di legge della Giunta norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini. Durante l'incontro a cui hanno partecipato consigliere di parità, insegnanti, sindacaliste, operatrici sociali ed esponenti dell'associazionismo, è emerso l'apprezzamento per un testo che affronta questioni attuali e di grande rilevanza. Particolare attenzione è stata chiesta per i progetti formativi rivolti a docenti e studenti che molti degli interventi hanno valutato fondamentali per sensibilizzare i ragazzi rispetto alle problematiche della differenza di genere ed aiutarli nel proprio percorso di affermazione verso una cittadinanza consapevole. Il presidente Attilio Solinas ha spiegato che questo disegno di legge rappresenta una priorità assoluta per la terza commissione, confermando l'impegno a portarlo in aula prima possibile. Approvata dalla terza commissione una proposta di risoluzione sulla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Ce ne parla Davide Mariotti Bianchi. La terza commissione consigliare presieduta da Attilio Solinas ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione sulle problematiche di organizzazione e funzionamento del servizio sanitario regionale e proposte operative presentate dai direttori di struttura complessa. L'atto chiede alla Giunta di recepire nel nuovo piano sanitario regionale le proposte operative avanzate dal gruppo Disco. In particolare, la proposta di risoluzione chiede di inserire nel sistema sanitario la clinical governance e di istituire presso l'assessorato alla sanità una consulta regionale dei clinici con funzioni di natura tecnico-consultiva necessario ad apporrottare l'indispensabile contributo tecnico da parte degli operatori sanitari nelle scelte politiche e amministrative. Inoltre, l'atto propone di rivedere le modalità di distribuzione delle risorse per la sanità di provvedere ad implementare un sistema informatico unico regionale di definire ed attuare un processo di integrazione tra aziende ospedaliere e aziende sanitarie di istituire le reti cliniche e di adottare linee guida uniche regionali per i medici per perseguire l'obiettivo dell'appropriatezza prescrittiva e infine di attivare con urgenza il servizio di trasporto neonatale. Ed è tutto per questa edizione vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete e sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su Youtube Grazie per averci seguito buona settimana a tutti arrivederci